Non sembrano esserci molti dubbi sulla dinamica e sulle origini dell'esplosione di una parazzina ieri mattina in via Alessandria ad Avezzano. In un primo momento si era pensato ad uno scoppio causato da una fuga di gas, ma dopo un'attenta osservazione della scena da parte dei vigili del fuoco è apparso evidente che quella fuga è stata volutamente causata, con ogni probabilità da Roberto Marziale, il 53enne estratto vivo dalle macerie. Il tubo del gas infatti è stato manomesso a confermarlo alla presenza di una chiave inglese utilizzata per aprirlo. A rafforzare questa ipotesi alcune testimonianze raccolti dagli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Avezzano, secondo le quali già in passato Marziale aveva manifestato l'intenzione di farla finita. Già due anni fa il 53enne aveva tentato il suicidio. L'esplosione è avvenuta intorno alle 9.30, ma già dalle prime ore della mattina evidentemente l'uomo aveva aperto il tubo del gas e si era disteso sul letto. Forse non era sua intenzione provocare l'esplosione, ma sarà bastato un semplice innescolo, l'accensione di un interruttore o qualcos'altro a causare la terribile deflagrazione che ha fatto crollare parzialmente la palazzina e ha mandato in frantumi le finestre delle palazzine vicine. Fortunatamente non si sono registrate vittime, lo stesso Marziale estratto dalle macerie non ha riportato ferite particolarmente gravi. Miracolosamente illese la madre Ida Santucci e la zia Maria Cipollone che al momento dell'esplosione erano al piano di sopra in una porzione di pavimento rimasta intatta. In ogni caso il sostituto procuratore Maurizio Maria Cerrato ha aperto un fascicolo, l'ipotesi di reato è disastro colposo.